Benvenuto Don Gaetano, prego, accomodatevi. Don Gaetano, chi sei Rocco Lipari? Qui tu per concludere l'affare e vorrei parlare con Don Bippo che è messina. Don Gaetano Santamaria, piacere. E io faccio una salsata da Palermo, perché non ce l'hai chiesto qua? Rocco è un becciotto a posto per chi è buono io. Don Gaetano Santamaria, voi siete molto conosciuti qui a Messina e so che avete un'amicizia stretta con Don Pippo Farina, uomo di potere e che è nel giro grosso della droga. Dopo cosa sei tu? Ma infagiamoci qualche sbigno e i navoli si mettono la via. Santino, devi darmi questa pistola alla macchina. Allora, Rocco è il becciotto a posto. Di più buono io per io. E' un amico mio, mi spiega il buono io. Amico tu? E' Sentiamo, giocati! Santino, sai perché non troviamo qui? Si, non lo so perché siamo qui. Però raffiniamolo a questo teatrino. Vedi che bisogna fare. Invece? No, no, no. E' molto funny.